ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale finalmente dopo un po di tempo sono riuscito a fare questo game player che per motivi di lavoro ed altro non riuscivo più a fare a registrare comunque questo è un video dove vi faccio vedere quest'arma che è veramente spettacolare che l'ho riscoperta dopo un po che prima sinceramente non piaceva ma giocandoci ho scoperto che è veramente spettacolare è Razorback e niente poi alla fine vedete anche le classi e gli accessori che ho messo nell'arma che lo trovate nella alla fine del video come già sicuramente avete capito è un tutti conto tutti veterano e niente vi posso dare due consigli se giocate a questa modalità che il primo sarebbe che quando inizia la partita di aspettare un attimo un 30 secondi il tempo che si stabilizzano gli spawn così avete più possibilità di non farvi uccidere subito immediatamente e niente e dopo partite fate la vostra partita il secondo usate silenzio di tomba ragazzi perché sennò vi cioccano su tutti contro tutti è fondamentale e poi se volete aggiungere anche potete aggiungere percezione ambientale che vi aiuterà tanto comunque ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace e se volete commentate sotto ciao a tutti e un abbraccio ciao a tutti 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 a tutti un saluto ciao a tutti a tutti